Allora siamo sempre qui a Villata in questo stupendo parco e possiamo fare altri esercizi a corpo libero come questo qui dove possiamo fare sia delle trazioni alla sbarra oppure della camminata con le braccia. Allora possiamo iniziare con delle trazioni alla sbarra per il dorso facendo questo esercizio. Ok e poi possiamo continuare con una camminata con le braccia in questo modo Ok